ciao a tutti da vittorio buongiorno voglio tornare un po sul discorso atalanta perché quando discutevo con i lazialoni o i prolotitiani chiamateli come volete io dicevo sempre che il modello vincente secondo me per una squadra come la lazio che non aveva la capacità economica del material madrid o della juventus o dell'inter del milan era copiare sostanzialmente il modello atalanta ovvero prendere giovani belle speranze farli crescere poi rivenderli e usare quei soldi per comprare sempre più giovani eccetera eccetera la risposta che mi davano i prolotitiani e no lotito ha ragione che cosa ha vinto l'atalanta beh da ieri sera questa risposta non va più bene non solo l'atalanta e ricordiamo la città di bergamo rispetto a quella di roma è minuscola bacino d'utenza dell'atalanta è minuscolo rispetto a quello della lazio l'atalanta non solo è andata in champions league più volte della lazio di rotito ma soprattutto ha vinto più trofei europei della lazio di rotito e in particolare non la conference che uno può dire una competizione mediocre ma l'europa league la competizione europea che la lazio di rotito ha giocato più volte senza mai non solo vincerla ma neanche arrivare in semifinale o in finale ecco ritorno al mio discorso che il modello atalanta per una squadra come la lazio che non ha capacità economiche enormi è il modello vincente tu devi prendere giovani li fai crescere e li vendi quando arriva l'offerta giusta quando arriva a un certo punto tu li vendi perché poi con quei soldi li rinvesti e magari anziché prendere un giovane ne prendi due perché ha incassato 50 milioni cresci quei due giovani ti portano in champions league e li rivendi con quei soldi di quei due giocatori che hai comprato ne prendi quattro e a un certo punto ti ritrovi ad avere una squadra da vincere l'europa league una squadra che arriva a quarta in campionato eccetera eccetera al contrario la lazio non li vende perché gira immobile bandiera cuore felipe anderson grande laziale luis alberto lazialissimo eccetera e poi arrivi stagione 2024 con cire mobile che il tuo giocatore più caro prende quattro milioni netti quindi otto lordi che è un giocatore da panchina perché cire mobile ha fatto otto gol in campionato quest'anno per otto milioni lordi ti ritrovi un giocatore che ti costa tantissimo più caro della tua rosa che non puoi vendere perché a 34 anni con uno stipendio del genere nessuno ti viene a bussare dire io vorrei cire mobile ma se tu vendevi cire mobile quattro anni fa cinque anni fa quando il milan ti aveva offerto 60 70 milioni tu quei 70 milioni li potevi investire prendendo due tre quattro giovani e costruire adesso una squadra più forte oggi non avevi il problema cire mobile vecchio carissimo da piazzare ma magari ai lucman co minus con i soldi di cire mobile e stavamo noi festeggiando l'europa league la politica di lotito è sbagliata anzi sbagliatissima le bandiere non esistono più in più siamo onesti immobile felipe anderson ma potremmo fare discorso di squadre di altre squadre di bala lucacu chiesa eccetera non sono tifosi di quella squadra stanno lì perché hanno trovato l'offerta più giusta cire mobile quando arrivata l'offerta dell'arabia saudita era pronta a partire e tu lo dovevi far partire luisa alberto su quattro anni che vuole tornare in spagna ecco vendere i giocatori al momento giusto è quello che deve fare una squadra dalla capacità economiche come la lazio se presidente fosse gragnotti allora tu puoi tenere quelli che ti pare e ti prendi imbappé e oland ma visto che lo dito non mette un euro il mercato si fa con le cessioni cup miners grandissimo giocatore probabilmente quest'estate l'atalanta lo vende lucma tripletta in finale di europa league quest'estate è sicuro che parte l'ha detto anche lui che vuole andare via l'atalanta lo venderà chissà 40 50 60 milioni nessuno piangerà nessuno dirà grande tifoso dell'atalanta lui bandiera dell'atalanta quei soldi verranno investiti bene perché per cassi è bravo e anziché un lucman e un cup miners magari fra due anni ne escono due quattro e l'atalanta continuerà ad essere sempre là fra il quarto il quinto posto terzo eccetera mentre la lazio quest'anno devi ripartire da zero perché hai una rosa di vecchietti vecchietti difficili da piazzare perché a 8 milioni lordi immobile non te lo prende nessuno perché a 31 anni luisa alberta 8 milioni lordi non te li prende nessuno e così per altri giocatori in là con gli anni io ho sempre detto che la politica che sta facendo l'atalanta è quella vincente mi è stato detto è ma l'atalanta non vince la coppa italia abbiamo visto non fa la differenza la lazio che i soldi della coppa italia non ha comprato nessuno non ha fatto i balzi in avanti l'atalanta andando in champions ripetendo la champions continuando ad andare in champions alla fine ha vinto l'europa league con merito stramerito e non solo si era già qualificata in champions per il campionato adesso ci va anche come vincitrice della coppa italia della dell'europa league dimostrando che il percorso dell'atalanta è quello giusto non ti puoi affezionare ai giocatori la lazio l'atalanta al milano non è una trattoria non è una famiglia è un business e il business ti dice che se arriva un'offerta superiore al prezzo di quel giocatore tu lo vendi subito non ti frega che ciro immobile è affezionata la lazio perché non lo è è affezionato ai soldi è un professionista e ci mancherebbe pure tu lo vendi perché non te lo puoi portare a 34 anni quando immobile resta da lazio perché non lo vuole nessuno e tu gli devi pagare 8 milioni per stare in panchina perché poi quello è il rendimento modello atalanta è vincente il modello lotito è perdente perdente perché atalanta non solo va in champions league ma vince anche l'europa league la lazio ha vinto qualche coppa italia ma in europa disastro e quest'anno torniamo a non andare in champions league ecco ripeto ieri ho festeggiato ho detto bravo lo tito perché ha preso o sta chiudendo ciao onna che secondo me è un giovane interessante così devi fare la lazio prendere ventenni interessanti farli crescere e poi a 24 anni arriva l'offerta giusto 40 50 milioni tu li rivendi e riparti con quello ma con più soldi anziché prendere un ciao onna ne prendi tre e così piano piano tiri fuori una squadra giovane forte e magari anche noi andiamo a vincere l'europa league bisogna dirlo quando lo dito sbaglia bisogna avere il coraggio di dirlo anche se sei un pro lotitiano quando lo dito fa bene come l'acquisto secondo me del giocatore della salinitana bisogna dirlo e ieri l'ho detto ecco chiudo questo video mattutino per dirvi il mio pensiero che il progetto atalanta è quello vincente il progetto lotito o diventa come quello dell'atalanta oppure noi saremo sempre in questo limbo e attenzione perché per casi non ha messo un euro non è che dici che per casi ha sovvenzionato il calciomercato dell'atalanta l'atalanta e si autofinanzia con la cessione dei giocatori la cessione di lucman di copminers porterà tantissimi soldi in cassa e quei soldi verranno riutilizzati per prendere altri giovani che diventeranno come copminers e poi rivenderemo eccetera eccetera così devono fare i club che non hanno una proprietà ricca così doveva fare la lazio speriamo che questa stagione cambi tutti fabiani dice modello bayern leverkusen modello feinord ecco questi sono i modelli stile atalanta l'atalanta ha vinto bayern leverkusen ha vinto la bundesliga questi sono i modelli gli esempi che una società come la lazio deve prendere deve seguire ovviamente questo è il mio giudizio qual è il tuo scrivono commenti qua sotto e noi ci vediamo il mio giudizio qual è il tuo caso